Anche qui forse il tiro molto forte ma il portiere è un po' incerto. E veniamo al Real Madrid, l'unica squadra spagnola qualificata anche se battuta per 2-0 dalla formazione di Innsbruck che realizza due gol, entrambi uno per tempo, entrambi con Rosker, aveva perso per 5-0 l'incontro d'andata però la formazione è austriaca e quindi il 2-0 è soltanto una platonica soddisfazione che comunque gli austriaci si tolgono battendo due volte con il barbuto Rosker Michelanghelle il portiere della formazione del Real Madrid, unica sopravvissuta del forte schieramento spagnolo nelle coppe c'è un contrattacco degli spagnoli che tentano di ottenere qualche risultato sia pure ripeto essendo partiti dal 5-0 nell'incontro d'andata non corrivano grossi rischi, Rosker comunque gli realizza il secondo gol al 19esimo della ripresa dopo aver segnato al 20esimo del primo tempo il primo gol, in pratica a scadenza quasi fissa Rosker ha realizzato i suoi due gol, nei suoi due ritmi, una platonica soddisfazione per la squadra austriaca comunque eliminata dal Real Madrid